Sarà una tale amaro per altri lavoratori aquilani, ancora vertenze occupazionali. Questa volta CGL e CISL rivolgono l'attenzione alla RC Solution, una piccola azienda metalmeccanica che ha sede all'interno del Tecnopolo, che ha appena licenziato 10 dipendenti su 13. Una vicenda occupazionale che ha origine nel 2018, quando avviene la collocazione spontanea in part-time delle dipendenti donne. A settembre del 2023 la stessa azienda comunica a sindacati enti la chiusura, procedura poi ritirata. A fine settembre l'RC Solution chiede la cassa integrazione dal 2 ottobre fino a fine anno, ma nonostante l'impegno sottoscritto a anticipare l'integrazione salariale, ad oggi mancano all'appello integrazione di ottobre, tutto novembre, lo stipendio intero di settembre, al 15 dicembre la doccia fredda, si licenziano 10 persone su 13. Una vicenda della quale i sindacati hanno interessato anche il comune e il regione ispettorato del lavoro, ma ci si interroga di come sia possibile che un'azienda presente da altri dieci anni, che fornisce servizi anche per controllate dello Stato e con il 79% di mano d'opera femminile, anziché crescere, decidere di mandare a casa dieci persone. E con quali prospettive poi, per i tre che restano? Da tempo la piccola azienda aquilana ha delle difficoltà, tanto che le lavoratrici, pur di mantenere il posto di lavoro, negli anni scorsi hanno accettato di essere collocate a part-time, con evidente danno retributivo e contributivo. Ma nonostante tutti gli sforzi, oggi l'azienda comunica che non è in grado di proseguire l'attività produttiva e comunica il licenziamento di dieci lavoratrici. Si tratta di un'azienda che prevede che occupa per lo più donne, quindi purtroppo un copione tristemente noto, lavoro povero, che vede coinvolte lavoratrici donne e che oggi devono fare i conti con il ben servito.